Le 12 caselle sono state riempite. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ha comunicato i nomi della squadra di assessori che lo affiancherà durante i prossimi 5 anni di legislatura. Domani in una conferenza stampa alle 11 comunicherà le relative deleghe. Solo 4 sono assessori della precedente legislatura e si tratta di Antonio De Caro, che continuerà a ricoprire la delega alla mobilità urbana, Ludovico Abaticchio al welfare, Elio Sanicandro allo sport e Gianni Giannini al bilancio. La volontà di Pierferdinando Casini non è stata tradita e così è entrato in giunta anche Filippo Barattolo. La fascia di vice sindaco dovrebbe spettare ad Alfonsino Pisicchio, coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori. Le altre new entry sono Gianluca Paparesta, tecnico con la delega al Mezzogiorno, Franco Albore al commercio passato durante i ballottaggi dal centro-destra al centro-sinistra, Marco Lacarra ai lavori pubblici, Fabio Losito, ex assessore provinciale alla cultura e primo dei non eletti di Sinistra e Libertà, dovrebbe essere il nuovo assessore alla pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'Equoterosa Emiliano ha attinto non fra gli eletti, scegliendo due giovani tecniche figli ed importanti imprenditori baresi, Cinzia Masciopinto all'ERP e Annabella De Gennaro alle attività produttive al decentramento.